Civil Week 2024, siamo in Piazza del Salto a Cinisello Balsamo in compagnia di Lino. Buongiorno Lino. Buongiorno. Che cos'è Auprema Ollus, la fondazione Auprema e cosa avete organizzato per questa Civil Week? La fondazione Auprema è una fondazione collegata con la cooperativa Uniabita. Sostanzialmente la cooperativa Uniabita, che è una cooperativa di abitanti piuttosto grande, forse la più grande di Milano, d'Italia, ha fatto nascere la fondazione per dare un supporto ai propri soci in difficoltà, con varie problematiche, eccetera. Però poi questa attenzione si è allargata invece in realtà a tutto il territorio di Cinisello e di Sesto, dove opera sostanzialmente Uniabita. Quindi è un sostegno alle difficoltà, alle problematiche, in primis dei soci di Uniabita, ma in realtà poi a tutta la realtà di Cinisello. Per quanto riguarda invece Civil Week, non è una iniziativa di Auprema. Noi siamo qui in tante realtà. C'è il social market gestito dal Mars, dove ci sono volontari, ci siamo noi come Auprema. C'è il servizio di lotta all'emarginazione. Insomma ci sono diverse realtà. È un'iniziativa che abbiamo fatto insieme col comune di Cinisello Balsamo. C'è le residenze del sole, tra l'altro io sono anche presidente delle residenze del sole, oltre che di Auprema. La residenza del sole è un RSA. E qui vedete gli ospiti che sono arrivati per distribuire i volantini, perché il tema della Civil Week di oggi è quello La Costituzione siamo noi. E quindi abbiamo fatto un lavoro, questo con le residenze del sole, con i nostri ospiti di prendere gli articoli della Costituzione e con gli ospiti farsi esprimere il loro pensiero su questi articoli. E oggi li stiamo distribuendo qua nella Piazza dei Valori. Ecco, quindi è tutto un insieme. È una delle iniziative, perché il Civil Week dura tre giorni e altre associazioni che partecipano hanno fatto qualcosa ieri e l'altro ieri. Comunque il cartello c'è, potete vederlo, tutte le varie iniziative. E si concluderà giovedì, tra l'altro che è fuori il Civil Week, con questo momento sul volontariato. Bene, grazie mille e buona Civil Week. Grazie.